Nuovo prodotto della collezione Summit Series Fall 12 The North Face, Meru Jacket, meru appartenente come dicevo alla collezione Summit, quindi la top in class, il best in class della collezione The North Face, per chi vuole il meglio in termini di resistenza, lo strappo, l'abrasione, impermeabilità, creata in laminato Gore ActiShell, perché Meru Gore Jacket? Il tutto è nato da tre anni a questa parte con il progetto Return to Meru, l'anno scorso due dei nostri più grandi atleti, Coran, anche Regimi, Cina, hanno completato la salita della cima inviolata del Meru Peak attraverso questa nuova salita e nel corso di questa spedizione hanno elaborato questi particolari prodotti che sono serviti a mantenerli chiaramente al callo asciutti nel caso della giacca, quindi testati come sempre tutti i prodotti Summit in itinere durante tutte le spedizioni. Meru Jacket quindi laminato in tre strati ActiShell, quindi che permette la massima impermeabilità e ancora più traspirazione tramite la fusione della membrana Gore con il terzo strato rendendo il nostro guscio ancora più comprimibile, altamente resistente ma molto più comprimibile. La fattura esterna della giacca, un nylon 40 denari molto morbido, tutto altamente resistente allo strappo, cerniere nastrate per resistere come sempre al massimo alle intemperie, la neve al ghiaccio che va a depositarsi sulla giacca, cappuccio con becca rigida sempre regolabile e compatibile con il casco per avere la massima visibilità, possibilità di essere regolata internamente con una culisse che permette un miglior posizionamento della giacca e qualche piccolo particolare molto importante situato nella zona delle spalle, vedete questa struttura antistrappo nella zona delle spalle e nella zona laterale per prevenire nella fase di camminamento o nella fase di salita che lo zaino rimanga sempre a contatto bene con la giacca e che non vada a strappare la giacca ma diventi tutto un tutt'uno. Stesso discorso vale sul fascione laterale dove vado a chiudere davanti il mio zaino e avere ancora più ergonomicità. Polsino rigido proprio per permettere la regolazione, il taglio chiaramente, come potete ben vedere, molto ergonomico, molto sul corpo per avere proprio il massimo della performance nelle peggiori condizioni atmosferiche. Al prossimo episodio Ciao! Ciao! Ciao!